il compio l'opera del signore e gli usa i terremoti i virus la popolazione è sotto controllo le masse si nutrono e prosperano sono io il virus stanotte io sono la peste fatta a carne voi siete tutti sul mio cammino sono la santa trinità sono la santa trinità sono il padre di merda il figlio di puttana e lo spirito del cazzo 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 non 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 Sì, 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 sì. Grazie a tutti